Fiorida è un'azienda agricola bioecologica e anche la SPA vuole mantenere questa via. Noi vogliamo curare i nostri clienti a 360 gradi, quindi cosa vuol dire? Non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, a livello emotivo, di emozioni. Bene, guardate solo la tradizione o utilizzate anche metodi innovativi? Allora siamo molto legati alla tradizione, non solo della nostra terra ma a varie tipologie di tradizioni. Per quanto riguarda quelle della nostra terra offriamo ai nostri clienti varie tipologie ad esempio di bagni come il bagno di latte crudo fatto dalle nostre mucche, abbiamo il bagno di fieno, utilizziamo il fieno di sacco, il bagno di vino. Utilizzando il vino della Valtellina andiamo ad offrire un bagno che è anche terapeutico per quanto riguarda ad esempio delle vene. Però guardiamo anche oltre al nostro ambiente, utilizziamo ad esempio un sapone nero che è un prodotto della tradizione marocchina utilizzata in tutti gli ammam. È una lavorazione particolare dell'olio d'oliva quindi rimaniamo sempre a livello naturale, però diamo quel qualcosa in più. E per quello che riguarda invece l'innovazione? Per quanto riguarda l'innovazione noi non ci dimentichiamo che comunque viviamo in un mondo frenetico e bisogna adattarsi alle esigenze di tutte le persone. Per cui utilizziamo ad esempio dei macchinari innovativi come può essere l'intrasutica, l'oxygen infusion oppure l'omeoenergetica. Bene, puoi parlarci dell'intrasutica? Certo, l'intrasutica all'oxygen infusion è un trattamento veramente straordinario ed è diventato famoso per i vari testimonial famosissimi come Madonna e Eva Longoria. Grazie all'utilizzo di ossigeno iperbarico vengono fatti penetrare molto in profondità quindi fino allo strato del derma prodotti purissimi ma sempre di natura naturale come possono essere l'acido ialuronico a basso peso molecolare, antiossidanti, tè verde e varie tipologie di sostanze che vanno sì a curare la pelle in vari settori ma soprattutto vanno a dargli una sferzata di energia in modo tale che aiutino a riprodurre collagene e elastina e quindi la pelle più giovane, più ossigenata, rinasce. Quindi possiamo dire che c'è un ringiovenimento e degli effetti efficaci, immediati? Efficacissimi, veramente il cliente si sorprenderà che già dalla prima seduta, dalla prima applicazione vedrà la pelle completamente rinnovata, più luminosa, più compatta, polposa e già le rughe distese, una luce nuova al viso. E c'è un effetto duraturo? L'effetto della prima seduta è duraturo per la prima settimana, ovviamente per avere un effetto completo bisogna fare un ciclo di trattamenti perché purtroppo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Bene, invece l'omioenergetica? Sì, per quanto riguarda l'omioenergetica anche questo è un apparecchio veramente innovativo. Grazie all'utilizzo particolare di onde radio modulate diversamente possiamo andare ad agire su vari tipi di inestetismi. Ad esempio abbiamo la modulazione capacitiva che va ad agire sul tessuto molle, quindi tratteremo il muscolo, la cellulite molle, la ritenzione idrica in profondità perché non stiamo parlando di una crema che viene posizionata sulla pelle e fatta assorbire lentamente. Sono delle onde radio che penetrano in profondità, pur essendo naturali e assolutamente non nocive, ma vanno ad agire molto a fondo. Molto a fondo. C'è poi la modalità resistiva che va ad agire sull'ossatura, sui legamenti, sulle fibre sclerotiche della cellulite e quindi anche questo è un trattamento che subito, immediatamente dalla prima seduta la cliente potrà vedere la zona trattata, molto diversa dalla zona non trattata, il gluteo più sodio rialzato perché comunque andiamo a combattere la forza di gravità la gamba drenata più sottile, il tessuto di un colore diverso, più sano. Andiamo a riportare una giovinezza anche nel tessuto. Quindi elimina tossine e c'è un benessere generale del corpo? Assolutamente, c'è un benessere totale in quanto il tessuto viene riportato tra virgolette alle origini perché alla fine la cellulite non è nient'altro che una malattia del tessuto o delle fibre sclerotiche che vanno a far mancare ossigeno e nutrimento alla cute che si imbruttisce perché è una situazione di sofferenza e quindi vediamo la pelle a buccia d'arancia. Grazie ad Omeo Energetica noi andiamo a riossigenare il tessuto, portiamo via quello che c'è da portare via perché andando anche ad agire sulle cellule di grasso noi le facciamo scoppiare quindi vengono eliminate c'è una perdita di centimetri perché non è il peso che ci interessa ma è proprio l'aspetto e quando vedi una gamba sana vuol dire che anche il corpo rispecchia la sanità della gamba stessa. E anche in questo caso bisogna fare più sedute? Allora ripeto che anche in questo caso il risultato è visibile immediatamente dalla prima seduta però logicamente se si vuole avere un risultato duraturo da poter portare nel tempo le sedute non possono essere una soltanto è sempre il discorso di prima sarebbe troppo bello se con uno schiocco di dita si ottenesse il risultato Sono fantastici però aiutano molto E invece per quel che riguarda la spa che servizi offrite? Allora nella spa abbiamo la piscina che è circa 30 gradi di temperatura in cui diamo la possibilità ai nostri clienti oltre che fare nuoto libero di programmarsi delle sedute di acquagym, acquapilates inoltre abbiamo portato un'innovazione in quanto portiamo la ginnastica per le donne incinta piuttosto che per la terza età Abbiamo l'area fitness in cui i nostri clienti possono accedervi liberamente e fare un po' di palestra La clientela è solo quella dell'albergo o è aperta anche al pubblico, al pubblico, al pubblico esterno? La clientela è sia dell'albergo che è aperta a tutta la clientela esterna che voglia passare dei piacevoli momenti con noi Inoltre, oltre a queste due tipologie, nella spa troviamo il vitarium o zona umida in cui all'interno c'è la doccia emozionale E come funziona la doccia emozionale? La doccia emozionale è una doccia particolare, ha due tipologie di getti, il fionda e il nebulizzato Inoltre abbiamo la cromoterapia, quindi andiamo ad agire sia a livello fisico che a livello psicologico a livello emozionale con il cambio dei colori C'è la piscina idromassaggio che è intorno ai 34 gradi, quindi un maggior rilassamento Abbiamo la doccia a diluvio Cos'è la doccia a diluvio? È una doccia particolare, molto bella perché può essere fatta in due e dà l'effetto di una cascata d'acqua Dopodiché abbiamo il bagno turco, la sauna e la sauna finlandese E immagino che dopo tutta questa zona trattamenti ci sia anche una zona relax Assolutamente sì, c'è la possibilità di avere la zona con i divanetti in cui assaggiare una squisita tisana totalmente biologica, 100% naturale le mele della Valtellina oppure un cioccolatino se uno si vuole fare una coccola in più Dopodiché c'è il solarium esterno con dei lettini per chi vuole prendere il sole o stare di fuori immerso nella natura nel nostro splendido giardino Il solarium interno in cui poter leggere delle brochure per vedere di farsi magari anche qualche coccola in più e la possibilità di fare un riposino nei lettini ad acqua che possono anche essere riscaldati dove c'è una cromoterapia e si passano veramente dei momenti di pieno relax Ma in un periodo come questo che andiamo incontro all'inverno quindi il sole difficilmente lo si può prendere all'aperta offrite anche un servizio lampade? Assolutamente sì, abbiamo un'ampia cabina in cui poter offrire alla nostra clientela interna o esterna la possibilità di fare delle lampade UVA sono modulate con dei raggi che non sono troppo aggressivi infatti dura 20 minuti e non i canonici 7 o 10 perché preferiamo dare un tempo prolungato ma non un'aggressione alla pelle La lampada UVA come si sa non va ad attivare la melanina basica ma va ad ascurire quella superficiale quindi se si ha un po' di colore si scurisce se non si ha colore si può anche utilizzarla a livello tra virgolette terapeutico in quanto i raggi solari vanno ad attivare la vitamina D e quindi ad agire sulle ossa, sui dolorini Bene, vuoi dire qualcosa che ci sta seguendo? Sì, io voglio dire che la fiorida può offrirvi veramente molto veniteci a trovare, veniteci a trovare nella spa e potremmo darvi tutto il nostro team dei consigli per qualche massaggio, per qualche trattamento e veramente affronterete la settimana con uno spirito totalmente diverso